Sottoscriveremo due protocolli. Oggi in modo particolare lo facciamo con le parti sociali e con l'Ispettorato del Lavoro, ampliando anche alle parti sociali e al direttore dell'ITL una serie di impegni che discendono dal documento sottoscritto in verità già la scorsa settimana dai prefetti interessati e da RFI. Parliamo delle due tratte ferroviarie che saranno interessate della realizzazione dei lavori di velocizzazione di alta velocità sulla direttrice Salerno-Taranto e nello specifico e più in particolare sulla tratta Battipaglia-Potenza. Prevenire infiltrazioni criminali nei lavori su queste direttrici ferroviarie che interessano la Basilicata è questo l'obiettivo di due protocolli per la legalità che sono stati sottoscritti nella sede della prefettura di Potenza. L'intesa, come ha spiegato il prefetto del capoluogo di Regione Lucano, Michele Campanaro, comporterà la distribuzione di una banca dati antimafia che viene messa a disposizione dei gruppi interforze delle prefetture per aumentare la soglia di controllo di carattere amministrativo che si concretizza nelle eventuali adozioni di interdittive antimafia. L'altra caratteristica, l'altro elemento qualificante del protocollo è l'istituzione di un tavolo con le parti sociali per controllare e monitorare i flussi di manodopera che vengono impiegati via via da parte degli aggiudicatari dei contratti, dei soggetti che vengono impiegati sulle tratte nel corso dell'avanzamento dei lavori.